Siamo alla domanda numero 263 del Catechismo di San Pio X. Abbiamo visto quali sono le virtù, abbiamo visto quali sono i vizi, e questa domanda suona così. Gesù Cristo ha raccomandato in particolare qualche virtù particolare? Risposta. Gesù Cristo ha raccomandato in particolare alcune virtù morali, chiamando nelle otto beatitudini evangeliche Beato chi le eserciterà. Eh, questo qui sì che è importante. Ci ha raccomandato le otto beatitudini evangeliche. E beato chi le esercita? Chi è che è beato? Cioè chi è che è santo? E chi è che è felice? Chi è che è pienamente realizzato? Chi vive le beatitudini evangeliche? E quali sono le beatitudini evangeliche? Lo scopriremo nella prossima domanda. Gesù Cristo ha raccomandato in particolare qualche virtù morale? Gesù Cristo ha raccomandato in particolare alcune virtù morali, chiamando nelle otto beatitudini evangeliche Beato chi le eserciterà. Chi le esercita. Tracca il Mare. Chi chi le esercito di E. Chi le esercita. Chi le esercita κι i vicini ok